un bellissimo cavolo romanesco separa i cespuglietti acqua in pentola giù l'aggeggio magico per il vapore cavolonshi per 10 minuti spezzetta delle mandorle trasferisci i cavoli ancora croccanti in una terrina mandorle sale pepe e pan grattato senza glutine un po' d'olio in forno pre-escaldato funzione grill a 200 gradi sala al brodetto di broccolo e versa l'acqua lenta eccoli pronti olio grattobroccolo polentato buono a te piace? ed è un sacco che non faccio il dolce o della panna che cosa potrei fare?